Il prossimo turno di Eurolega propone la sfida contro l'Efes in un incontro che nasconde tante insidie legate soprattutto al momento che i nostri avversari stanno attraversando. Al di là del fatto di occupare l'ultima posizione nel gruppo hanno dimostrato di poter competere contro ogni avversario come testimoniato anche dalle sconfitte involata negli ultimi turni di Eurolega. Dovremo approcciare questa gara con grande equilibrio, consapevoli che servirà uno sforzo da parte di tutti per supplire l'assenza di Langford e tenere a distanza un avversario che per talento, profondità dell'organico e caratteristiche fisiche atletiche ha tutte le armi per poter giocare alla pari.